Quanto al rapporto col Movimento 5 Stelle, di cui lei mi chiede, è stato come in tutti i nuovi rapporti, ed è inevitabile, c'è stata una fase di assestamento in cui ci si conosce e ci si studia. Ho apprezzato in questi primi mesi di legislatura l'impegno dei deputati del Movimento 5 Stelle e nel lavoro comune con loro ho stabilito, con alcuni in particolare, dei buoni rapporti, buone relazioni. Anche in conferenza di capigruppo e in ufficio di presidenza c'è collaborazione. Per questo a volte mi sorprende che nelle dichiarazioni alle agenzie si dia sempre più risalto alle divergenze che ai punti di contatto. Ecco io faccio esattamente il contrario, lavoro sui punti di contatto cercando sempre la mediazione e cercando di superare le divergenze. Resto comunque dell'avviso che alcuni loro comportamenti, tra virgolette, provocatori, diciamo così, potrebbero essere evitati e non ne risentirebbe l'efficacia della loro azione parlamentare. Non ne risentirebbe affatto. E poi credo che non giovino neanche a loro le esternazioni che il loro leader fa contro le istituzioni, con un tono spesso eccessivo e quasi sempre sopra le righe. Parole che non solo mirano a delegittimare il Parlamento, che è il cuore della democrazia, ma che danneggiano anche il lavoro dei parlamentari, che si impegnano per cambiare le cose, che si impegnano per cambiare le cose, incluso i parlamentari del Movimento 5 Stelle. Ho apprezzato molto il loro recente atteggiamento a difesa dei dipendenti della Camera. Evidentemente, visto da vicino, Montecitorio è ben altro che una tomba maleodorante.